Te lo dico, non sarei abituato per un cazzo proprio Eh no, perché qua mi devo... Bisogna rinnovare tutto, ste Bisogna rinnovare stile di gioco, un po' tutto E anche una cosa, sai cosa? Eh L'intro Anche Anche, anche Sigla Bella a tutti ragazzi, sono Topogamer, oggi siamo qui su una nuova serie in compagnia di Jiba, che mi sa che per questo episodio non si vedrà ma fa niente Bella Jiba, dovresti essere qua, eccolo, eccolo, c'è, 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 c'è E siamo su Bloodborne C'è, dove? C'è, Jiba, c'è, 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 Jiba c'è sempre Ah, ci sono, c'è Nei nostri cuori Nei nostri cuori Sicura che se io non ci sono No, bravo, tu devi esserci perché tu sei la mia guida spirituale in ogni gioco, infatti oggi Sì, inizieremo, io direi di iniziare innanzitutto Inizierai Sì, è vero che tu sei riuscito a recuperare i salvataggi, non devi più riniziare Credo che a me mi vedrete dal centosettantesimo episodio in poi Boh, può essere, può essere, adesso poi vedremo Comunque, adesso metto a posto tutti i settaggi, facciamo il personaggio, poi possiamo iniziare Ma io volevo le impostazioni dell'audio, bastardi, infami È iniziata la cazzina Bene, hai raggiunto il luogo giusto Jharnam è la sede di diffusione del sangue Tu devi solo svelare il suo mistero Ma da dove può partire chi ignora tutto, come te? Calma, quando avrai un po' di sangue di Jharnam Sto vecchio mi fa paura Io però dovrei siglare un contratto Non hai gli occhi Perché sbuffi? Vabbè, devo creare il personaggio che è meglio, va Ok, abbiamo firmato il contratto, abbiamo creato il nostro personaggio un po' particolare Tra un po' lo vedrete Qualunque cosa accada, forse ti sembrerà soltanto Credo che mi farà del male Stai? Sei ancora vivo? O stai già morendo? No, no Io sono vivo e vegetabolo E vegetabolo addirittura? Sì Ok, c'è una strana cosa sopra di me Tra l'altro io dovete sapere che non ne so molto di Bloodborne Anzi Quasi niente E c'è una strana creatura lupesca È uno Stark? Ah no Eh, mi mette ansia Mi sembra una cosa Ecco, cacchio Ste, succedono cose brutte, Giba? Ho paura Eh? Ho paura Eh, devi arrangarti tantissimo C'è uno spiritello Due spiritelli Oh Molti tempi Tre spiritelli Tanti spiritelli Aiuto Aiutissimo Non vedo più niente Vedo che abbiamo un cacciatore Oh, mi sono alzato No, non si vedono i miei capelli fotonici Però si vede la barba verde Eh, questo qua è il nostro Matteo, ragazzi Adesso devo andare in giro, immagino No Ok, la rollata è quella Come si attaccherà? Ok, solito Attacco leggero e pesante Perfetto La telecamera è un po' strana Molto strana Devo uscire da qualche... Oh, posso aprire? Andiamo Lei dopo mi dovrà guidare Vedi note? No, non le voglio vedere le note Ah, guardi Non è difficile C'è una strada sola Ah, ok Dopo, infatti, ho detto Lei mi deve guidare C'è la telecamera che è stranissima È velocissima Dopo mi sa che dovrò Vedi spettro Cosa vuol dire vedi spettro? Vedi spettro Sento dei rumori strani Oh, cazzo Ma devo batterlo? Ma io non ho armi Eh, già Ma io tiro via due alla volta Come faccio a batterlo? Eh, c'è gente che l'ha battuto Eh, no, io no Io per niente l'ho battuto Devo morire, spero No, potresti anche non morire Ah, ok Sono In un campo fiorito Sono tornato dentro Windows 95 Un campo fioraio Fioraio C'è co... Eh, va che villa La Maison du Monde Allora, questo qua è tipo il falò, giusto? Immagino Il falò centrale No La lanterna La lanterna La lanterna La lanterna Oh, c'è una tipa seduta Esamina Un'automa abbandonata Niente Esamina C'è un pozzo con dentro dei messaggero della vasca Scambio E chi ci sa Non c'ho niente Non credo di avere echi Ok, quindi adesso noi dovremmo prendere la nostra arma, tecnicamente Non si apre Nemmeno Lapide del risveglio Lapide del risveglio Lapide degli Arna Ma un'arma dove la trovo, signor Giboni? Eh, un'arma più avanti È arrivato il sogno del cacciatore, dai Se si chiama così, sì Eh, guardi in giro, spippoli Io sto spippolando, sto spippolando Mi sta spippolando abbastanza se mi fa questa domanda Vedi note Le note in possesso dei messaggeri contengono i dati Grazie Gentilissimo Vedi note Cambia armi, non mi interessa Qua c'è un cancello che è chiuso Apri cancello Non si apre, bene Come la mia vita come è triste Non si apre nulla Allora, per correre Tengo premuto Perfetto Ehm, non so cosa fare Lapide degli Arnam Risvegliati, non ho la qualità Seleziona la taglia degli Arnam Infermeria, primo piano Dove tornare in infermeria? Lapide del risveglio Niente, non trovo nulla Lapide del risveglio Nessun luogo per il risveglio Accetta Ah, accetta un dono Porco cane Era lì davanti a me I messaggeri mi offrono un'arma speciale Oh Mannaglia Ascia del cacciatore Bastone filettato Bastone filettato direi di no Sare indeciso tra la managlia E l'ascia Sono indeciso La managlia mi fa un 90 ad attacco fisico più 8 E l'ascia del cacciatore un 98 più 9 Poi tutto il resto dei numeri non so cosa siano Io consiglio l'ascia Eh, anch'io sto guardando che è un pelo più fortina Perfetto Accettiamo un altro dono Un'arma da fuoco Ah, è vero che qua Qua abbiamo la pistola o l'archibugio Io prenderei la pistola No Dalle statistiche Mi sa di più bene Non devi calcolarla in base al danno L'arma Non devo? Non devi E con l'arma non fai danno In base a cosa? Al perri Alla fine Ah, ok Ah, è vero che qua va tutto di perri Armi Direi di Mettermi la nostra cosa E E E la pistola da dov'è che si mette? Slotto A destra Ah, quello tutto a destra è l'arma secondaria? Ci sono due slot Sono quattro slot Due sono le armi primarie E due secondarie Ah, ok Io pensavo fossero tre e una Però vabbè Yarnami Infermeria primo piano Possiamo iniziare Adesso morirò male ancora E se muoio male ancora Iniziamo benissimo Questo viaggio Il problema è che c'è qualcosa Che non mi torna Con i tasti di Di Dark Souls Non capisco se la schivata Può essere che la schivata Era col quadrato No, era col cerchio Non lo so Cosa non mi torna Com'è che si perria? Ecco, quindi siccome fai perri nel bacio Ah, è uguale Ho tre fiale di sangue Perfetto Eh sì Devo assolutissimamente Cioè, riabituarmi Abituarmi a Oh, due fiale di sangue Qua mi raccontavi Che ci... Qua non c'è un inventario predefinito Tutto quello che prendo Poi vai nel baule Diciamo, tra virgolette Quando superi Il numero di quantitativo Di oggetti Oh, il tipo Oh, che sono? Le fiasche sono... Eh, tantissimo Le fiasche sono 20 Fiasche Massimo Quando superi le 20 fiasche Vanno a finire dentro nel deposito Ho allungato l'arma Quando nel deposito finiscono le fiasche Sì Sono finite Cioè, nel senso che Non basta che mi siedo Alla lanterna No Non ti puoi più curare Oh, cazzarola E come faccio? Eh Non finirle Eh no Tendenzialmente Proverai a non finirle Tendenzialmente Poi se le finisco Poi ce l'ho Io, tra l'altro, l'ho allungato Un dispositivo Ne impedisce l'apertura Bene C'è un altro cancello Questo qua non sarà chiuso Infatti Ma lei da quando è che può entrare in gioco Caro il mio navigatore? Eh, lei deve andare In un posto Vedere una cosa Spaventarsi Morire E poi forse possiamo vederci Ah, ok Però nel mentre Io setto un attimino l'audio Perché è un po' sbilanciato E poi ci rivediamo Ok, possiamo ripartire E qua Intanto io sto spippolando in giro Come dice Jiba Spippolo Visto che poi Lui mi sono a mi percura Mi dice che non spippolo abbastanza Oh no Distruttibilità ambientale Non ce n'è tantissimo Anzi C'è un cavallo morto però In compenso Orco Niente Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Apri e cancello Un dispositivo Ne impedisce l'apertura Ci sarà un dispositivo Da queste parti? No Non trovo nessun dispositivo Qua se non mi ricordo male Mi metto di parlare alle porte Giusto? Eh non lì No nel senso in gener... Oh qua Seleziona il dispositivo Aziona Cioè nel senso in generale Che qua dove si parla alle porte Non alle persone Ho tirato giù una scala Ci sono delle... Ci sono anche le persone Orco Però troverai delle porte Che sono sotto la luce Vuol dire che ci senti bene Casualmente ne uccisi due con un colpo Sono troppo forte Sono veramente obbligato Certissimo Vedremo tra poco Immagino che sarà un casino tra poco Se mi dici così Se lei mi dì cioè così Tra l'altro non ho nemmeno provato come c'è sicura Con quadrato immagino Triangolo Ho sentito una cosa urlare Una lanterna Accendi lanterna Hai visto che ci sono arrivata la prima lanterna? Sì vabbè Prima lanterna ci può arrivare più Non c'è nessuno Vabbè però Tu che diffidavi Tu che diffidavi E invece Volevi Tra l'altro bisogna spiegare Che questo qua non sarà una serie seria Su Bloodborne Perché comunque sia io Non posso pretendere di fare una serie seria Sarà porco Il demonio Porco Tu e tutta la tua famiglia Di morti ammazzati Ok L'attacco pesante mi piace L'attacco pesante Pesante mi piace Abbastuanza Però adesso Tu quella cosa che mi hai detto Del che non si ricaricano Le fiasche Per intenderci Mi fa paiura Devi curarti Ma con parsimonia Soprattutto all'inizio Oh c'è uno che C'è uno che ha Che aveva uno scudo Fiale di sangue Ostia savacca Quanta gente c'è No 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 Faccio un altro giro io Ho visto che c'erano altre scale No non erano scale E niente Devo andare giù da lì per forza Ma non è un po' tanta la gente Scusa eh Scusa la mia Riluttanza Vada prosegua Non stiamo esagerando Con la gente No L'ho evitata però No No C'è uno grossissimo Ok Devo andare da quello grosso Giusto Ma è tanto grosso Non voglio morire No Eh no È un po' lento Devo capire Però io non so come si Perria Come si fa Per arrivare secondo lei No Nel senso Il tempismo Quelle cose lì Non so niente io Eh più o meno Se lo stesso tempismo Di versore No No Dietro Ma quanto tolgo Toglie sto stronzo No 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 Non sono riuscito a schivare Porco Il demonio No Sto Mi incula Sì Mi sta inculando tantissimo È uno grosso Con in mano Una specie di ascia Sì Che è tipo Più che un ascia È una cosa brutta Non so No Sto sprecando Tutte le fiasche Tutti gli echi Sto sprecando Sto sprecando Sto sprecando Sto sprecando Sto sprecando I backstab non esistono Immagino No Eh la madonna Mi ha ucciso Però io ho ucciso lui Però lui torna in vita Come torna in vita A lei Ah cazzarola No sono lì i miei echi Li ho ritrovati Ok Eh di culo Potremmo averceli lui Ma dici che mi tocca ucciderlo ora Eh no Ma che ti tocca Però se lo ucciditi Da due fiasche Due fiale Sì ma se per ucciderlo Ne spreco 30 Eh Così è un altro discorso No Eh ma quanto cazzo togli Però sei illegale E io non so Non so schivare Sto gioco No per niente proprio Eh la madonna che mi ha tirato una testata Non è possibile Mi ha riusciso Mi ha riusciso No Indovina chi ha i miei echi ora Lui Non io Cioè non sono terra E non vedo i suoi occhi Ma non essendoci in giro Immagino che li abbia lui O no Eh sì Porco il demonio Ma da dove mi hai preso Un po' Ah no Eh un attimo prima Che ti colpisca Eh ma è veloce È veloce Eh lo so Ok allora Visto che adesso Non ho più niente da perdere Non ho fiasche Non ho nulla È iniziata benissimo Stasera proprio Io direi che posso Concentrarmi su di lui Una me l'ho troppata Allora dal ciccione Non ci andiamo più Basta Ho deciso Perché se no Non voglio iniziare a bestemmiare Subito Pronti via Ci tornerò Quando capirò come Come giocare E tutte le tempistiche Perché è completamente diverso Da Dark Souls E non me l'aspettavo Una cosa del genere Sinceramente Anche se mi aveva avvisato Il buon Jiba Eh già Molto Ah ma Tipo se lui mi toglie qualcosa Glielo ricolpisco Mi Come si dice Mi ridà la vita Eh non avevo capito Sta dinamica Figo 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 Allora Qua sopra Non ci sono Non sono arrivato da qua io Credo No non mi sembra No 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 Vedo cose nuove Vedo cose nuove Intanto raccolgo i loot Una moloto Bussa Tu sei quel forestiero Si sono io il forestiero Non voglio avere nulla a che fare con te Vattene per favore Non voglio nulla a che fare con me Se busso ancora Tu sei quel forestiero Riedici la stessa cosa Va bene Complimenti E niente mi tocca che andare avanti Anche perché io voglio giocare con te quindi Prima che viene becchere No vabbè ma se mi impegno Ce la posso fare Non hai fiducia in me? Ma mi ha dato fuoco il figlio Del male Del male di satana Qua ma da dove siete sbucati Sono morto Da dove è che sono Sono arrivati da giù Sono morto di qua Sbictus Porco cazzo Una porca Figlio della grandissima Anche qua li ho messi Sti stronzi Io li odio No non ci credo le ho uccisi tutti Non ci voglio credere Non ci voglio Che tu l'ha avuto un fuoco di merda Porco del putane Porco No 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 Non si dice E fallout? Ora ora no Eh dio Divinissime porca No 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 Non ci credo Cioè porco il demono No Cioè porco il demono